I talenti del futuro e i campioni della corsa in montagna, Lanzada, Lanzada Tricolore ha assegnato i titoli italiani per quanto riguarda appunto le categorie giovanili, i titoli senior e anche master. Ottima organizzazione, curata dalla sportiva Lanzada, dall'amministrazione comunale, da tutte le associazioni del paese, dalla Val Malenco. L'atletica Valle Bergamasca Elef al maschile e la podistica Valle Varaita in campo femminile hanno conquistato il titolo tricolore di corsa in montagna, i campionati italiani assoluti di staffette, Lanzada ha anche incoronato i migliori talenti. Il CSI Morbenio maschile e lo sport club merano femminile si sono laureati campioni d'Italia fra gli allievi. Il gruppo podistico Val Chiavenna Cadetti e ancora lo sport club merano cadette hanno invece conquistato il trofeo nazionale di staffette tagli under 16. Dunque una due giorni davvero ricca di emozioni per il vostro paese? Direi di sì, sono 650 atleti quindi come organizzatore posso essere soddisfatto. Tracciato rispetto agli anni precedenti è stato variato, infatti siamo a Pradash. State investendo su questa area del paese, su Pradash? Sì stiamo investendo, sono anche assessore allo sport del comune di Lanzada, stiamo investendo tanto, c'è in atto uno progetto su un centro sportivo, sull'arrampicata come vediamo alle nostre spalle e un centro per dare la possibilità un po' ai nostri atleti di avere una palestra per allenarsi anche nel periodo magari invernale. Lanzada a tricolore, qua vediamo i talenti del futuro, anche i campioni della nostra disciplina a corsa in montagna. Sì è una dimostrazione che l'atletica della nostra voltellina sta avendo dei buoni risultati, sia a corsa in montagna sia a corsa su pista, quindi direi che buona la manifestazione. C'è un giudizio sul tracciato? È molto duro per le salite, molto pendenti, anche le discese, però comunque è un bellissimo percorso. Tracciato, un voto? Eh, otto. Sei campionessa italiana due volte, giusto? Eh, sì, sono campionessa italiana di corsa e anche di corsa in montagna a Concesio e sì, oggi con la mia compagna di squadra, campionessa di staffetta.